Volevo dirvi questo, io sono qua per una cosa, per sapere un attimo chi sono io e in base a quello che pensate voi di me, perché io non ho capito neanche voi chi siete, io sono in base a quello che voi vedete in me. Io non lo so, sono il peggiore? Sì, sono venuto a dirvelo, sono il peggiore. Queste cose sono state dette per almeno... Sì, sei d'accordo? Sono d'accordissimo, io ho peggiorato questo paese. Cioè, da quando hai fatto politica hai peggiorato il paese? L'ho peggiorato. No, 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 c'è battuta qua. L'ultima intervista che ho fatto con Vespa abbiamo perso le elezioni. Cosa vuoi dire? Tutti quelli che ho mandato a fanculo sono al governo, è pazzesco. Cosa devo fare? Sono veramente il peggiore. Io non posso condurre o portare a buon fine un movimento politico, non sono in grado. Ma scusa, adesso te ne accorgi? Ma no, me ne sono accorto perché c'era Casaleggio, Casaleggio era un organizzatore, era un manager, faceva del metodo. Io faccio dei danni adesso, anche da solo, che non faccio niente in casa. Chiamo, mando mail, quanto whatsapp, mando un'idea e poi appena l'ho mandato ho già cambiato idea. Quindi va e crea una confusione totale. Come faccio io a essere? Ecco perché mi sono un po' ritirato a guardarvi un po' cosa succede. Perché è così. Allora, cosa vi devo dire? Ho fondato un movimento, mi ero iscritto al PD, volevo dargli tutte le mie cose, giravo e facevo le mie cose. Come ti sei iscritto al PD? Sì. Ma dove? A D'Arzacchina, guarda. Quanti eravate? Dammi un po' d'acqua.